Buongiorno raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Filippo Tortu ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, il velocista italiano, sicuramente uno degli sportivi italiani di quest'anno e uomo icona probabilmente dell'atletica tricolore che ha riscritto la storia dell'atletica tricolore ha esplicitato le sue ambizioni per l'annata 2019. Intanto ha detto che il primo obiettivo sarebbe tornare sotto i 100 metri, sotto i 10 secondi nei 100 metri, che sarebbe un buon obiettivo per Tortu che ha corso in 9,99 riscrivendo appunto la storia dell'atletica italiana, facendo il record italiano per la prima volta sotto i 10 secondi, insomma un Tortu comunque motivato, un Tortu che in vista dei mondiali di Doha del 2019 vuole proprio arrivare in finale, sarebbe quello l'obiettivo minimo che si forra l'italiano e già sarebbe comunque importante, sarebbe una buonissima finale. Ha detto proprio che ha corso nello scorso anno 9,99 dopo aver fatto un esame e ha anche detto proprio, lanciando comunque un esempio, anche ai giovani che provano a conciliare comunque sport e studio, proprio che si può fare infatti. ha dimostrato che Tortu, che si può conciliare comunque bene lo sport e lo studio, ha detto che si può fare molto molto bene. Tra l'altro ha parlato bene anche di suo padre, che li fa anche da allenatore, addirittura elencandolo come arma segreta. Negli ultimi anni comunque suo padre è stato molto molto importante, ha detto nella sua crescita, e appunto il suo obiettivo è quello di essere tra i protagonisti nel mondiale 2019, insomma, dove potrebbe raggiungere una finale, già sarebbe un obiettivo molto importante, perché Tortu sta crescendo. Dopo una lieve comunque delusione all'europeo scorso, dove è arrivato soltanto quinto, comunque c'è tanta voglia di rivalza, ha detto, vuole, non vede l'ora proprio di tornare in pista per il prossimo maggio, quando ricominceranno le gare, per dimostrare subito che Filippo Tortu è tornato. Speriamo, perché insomma, sarebbe comunque, insieme a Tamberi, potrebbe essere il nostro migliore esponente nell'atletica nei prossimi anni. Speriamo, 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 comunque questo ragazzo, dalle interviste che lascia, mi pare un ragazzo umile, un ragazzo comunque mai banale nelle interviste. Insomma, mi piace, mi piace, forza Filippo Tortu, ovviamente sempre forza per i colori italiani. Scusate ragazzi se oggi non vi ho portato i pagelloni, ma non avevo voglia di far video particolarmente seri, quindi il pagellone ragazzi della Formula 1 e del tennis probabilmente usciranno domani. Ma soltanto se spolliciate qua sotto e lasciate un sacco di mi piace al video e lo condividete, vi iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate anche un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate su questa intervista di Filippo Tortu. Speriamo, speriamo, speriamo che il prossimo anno faccia bene, perché io ci conto tanto. Forza Filippo Tortu. Iscrivetevi nel video, ci vediamo al prossimo video.